Ciao a tutti, oggi sono qui a Lago e siccome mi sto annoiando un pochino, ho pensato di fare un piccolo video per voi. In questi giorni ho pensato a quanti benefici mi ha offerto la Melaleuca, la versione touch della Doterra, che non è un olio essenziale pure da solo, ma anche un po' diluito con dell'olio di cocco. Eccolo qua, ce l'ho proprio qui, l'ho portato con me perché è un olio, Melaleuca è anche conosciuto come il T-Tried, è un olio molto molto utile per i bisogni di tutti i giorni. Questa linea touch è fantastica, comoda da usare, anche per i bambini, perché è diluita al punto giusto, quindi può essere applicata facilmente, è una bottiglia roll-on, quindi c'è la pallina sopra, adesso non riesco ad aprire con una mano, ma molto semplice da utilizzare. E proprio qualche giorno fa l'ho utilizzata vicino alle orecchie, dietro alle orecchie, perché la Melaleuca è ottima contro l'otite o qualsiasi problema legato all'orecchio, e allora ho preso qualche goccia di questo, ho fatto un bel massaggio dietro all'orecchio, perché avevo, avvertivo come se fosse un piccolo tappo alle orecchie, mi sentivo un po', non sentivo bene, ecco, sentivo rimbombare la mia voce quando parlavo, e quindi l'ho provato, ho provato a mettere la Melaleuca, e devo dire che il giorno dopo è andata benissimo, non ho più avuto il problema che avevo il giorno prima. Un'altra cosa per cui ho utilizzato la Melaleuca, circa una settimana fa, anche un po' di più dieci giorni fa, ci sono dei momenti che intimamente abbiamo dei problemi pruriti oppure magari rossori, la Melaleuca, questa poi diluita, è fantastica, l'ho applicata dove avevo questo prurito, probabilmente ho dovuto, non so, all'uso di un assorbente o di un salva slip nuovo che ho utilizzato, e la Melaleuca mi ha aiutato, un paio di giorni il prurito è andato via, anzi, il primo giorno è andato via il prurito, il secondo giorno è andato via proprio il problema. Quindi la Melaleuca è molto versatile, sono contenta di averla nella mia vita, perché veramente mi dà una mano, è molto utile. Questa è la versione touch, può essere utilizzata anche molto spesso per problemi di acne o problemi di pelle, quindi non so, un rossore o un'irritazione alla pelle, è fantastica, perché è proprio diluita, proprio per questo il touch è fantastico. La linea touch non la fanno solo la Melaleuca, ma anche tutti gli altri dieci ioni che troviamo nel kit base della doTERRA. Per cui viva la Melaleuca, viva la Melaleuca touch, che può essere utilizzata in qualunque momento. Parlando di sole, proprio perché adesso il sole mi sta dando un po' fastidio oggi, ma parlando di sole, la Melaleuca aiuta anche molto ai ritemi solari, quindi tutto ciò che è legato alla pelle, anche alla pelle esposta al sole, quindi la Melaleuca è fantastica per tantissime cose. Siccome il video non voglio che sia troppo lungo, preferisco chiudere qui, ma sapete anche voi le T3 quanti benefici possiede. Quindi voglio salutarvi, ringraziarvi per l'ascolto e resto a vostra disposizione come sempre, per farvi conoscere questi oli e prodotti doTERRA che sono meravigliosi, biologici, certificati puri di grado terapeutico. E resto a vostra disposizione per qualsiasi domanda, dubbi, o comunque se volete contattarmi anche per conoscere le promozioni in questo mese, in atto, vi aspetto. Sono contenta di potervi aiutare. Ciao ciao e buona giornata a tutti e buon'estate.